questo troppo pesante non si può buttare da qua nel corso e allora lo devo scelto come hai detto? ti porti? mi porto questo schifo in mano? che cos'è questo schifo? la cacca che li ha pulito il sedere al cane, fai sentire, esterna esterna, fuori, non ho detto una parruccia, si, lo sto registrando, se non c'è cestino, invece no, invece dove c'è la corruzione, tu ti devi portare, se non c'è il cestino, ti devi portare il fazzoletto, comunque studiate il culo al cane, da presso lo devi mettere dentro il sacchettino, ti sporchi le dita, usi un altro sacchettino che rimetti dentro un sacchettino e tutti questi sacchettini te li riporti guarda chi c'è appartiene hanno parenti in comune aspetta, 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 molto delicata questa ormai al giacchettino d'oro che è un monumento al caduto giacchettino e niente, quindi dove c'è la corruzione, dove c'è l'inviluppamento dei paesi sotto sviluppati che non sanno, non hanno misura, quindi è una pazzia smisurata e te lo devi portare da presso, poi ti pulisci la mano, poi con quello in cui ti sei pulito la mano te lo rimetti un'altra volta dentro e ti porti la mucchina, ti porti e poi un fazzolettino dentro un altro te li porti un po' da presso, fino a quando non venderanno il mastello portatile ma l'oro però di farsi carico di quello che dovrebbero fare niente l'altro uno è avvocato, l'altro è dottore, l'altro è magistrato, l'altro è poliziotto, l'altro è carabiniero, l'altro è finanziario, l'altro è dell'altro, l'altro è di questi attacca a biti ero scordato gli scienziati quello è scienziato dipende, dipende qua bisogna solamente stabilire chi è il criminale, se sono io il criminale o sono loro i cani o sono loro i criminali solo questo e magari casuidi i criminali, allora chi vuoi chi vuoi fare ti dicevo devi stare attento a quello che raccogli qui in generale perché ehi sputa ma hai rotto il cazzo perché c'è di tutto a parte il fatto che c'è anche lo stramonio io questo sono sicuro che sicuro sicuro attisano si fa attisano setto attisano ancora allora ti stavo dicendo ascolta 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 quando vengi in Bulgaria mi insegni tu il bulgaro e allora ascolta qua c'è un incrocio di piante esotiche che sono delle piante messicane messicane e di e di roba indiana tronchi tronchi stanno mangiando e di roba indiana capito? hai capito? no i fichi d'india e roba delle americane e roba indiana che hanno trovato il coso qui l'arancia la stessa cosa quindi qua sono presenti non mangiare niente e che cazzo poi perché ci sei tu loro si permettono queste cose sono presenti anche delle piante pericolose la datura capito? piante allucinogene piante che già i cactus o alcune cose di per sé Tofi ehi senti non mi fare dispetti perché ti metto alle guinzaglie hai capito? Tofi ti raccomando oh signore quindi mi devi ascoltare tu a parte il fatto bisogna vedere da dove prendono nutrimento se né fogne né le stesse cappe non erano tutti i chiapperi sono tutti uguali non erano i chiapperi lo so ti fa bene raccogliere i fiori perché anche le pietre perché ti si sistema lo stomaco gli sciamani così gli sciamani facevano così si abbassavano dicevano di fare così i primi dottori di raccogliere le cose a terra di mettersi a quattro zampe di stirarsi si quattro piedi vado piedi ginocchi allora ginocchi allora ginocchi e palmi ferma ferma calma calma tofi vieni se tu li urli così i cani i cani si eccitano ancora di più zani sempre con calma vieni qua tofi vieni poi è buono vieni mentre si scava salve lo posso riprendere vero che bello quella è in calore vieni qua ciao ciao bel cagnolone come si chiama? Pepe ah vero Pepe ciao ehi mi saluti dai ciao 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 bello ma chi è? Pepe riusci ehi ehi sai quanto duro in calore mi hai ballato qui dov'è casa? no qua grazie Tofina ehi dove stai andando? aspetta chi è una scoppola di minchia perché c'è qualcosa là ehi psst vai vai in quella fossa c'era il pomodoro pachino messo e mangia questa tisana con zuccheri pane e formaggio zuccheri pane e formaggio mangia e va a lavorare per questo lavoro tutto distrutto come quello la quando mi ha detto ma io ho studiato alla torre di Pisa ma chissà la torre di Pisa è una cosa buonissima guarda ancora ho gusto di questo pisano allora stavo dicendo biologicamente è interessante questa fossa vedi vabbè come si sviluppa bene ci sarà qualche tana c'è una tana ecco perché ci sono ste cagate ehi ci sarà qualche coniglio qualche cazzo di ehi c'è la tana per questo ci sono ste cagate strane laica laica da noi era la marca non so di che cosa aspetta aspetta in italiano laica che cosa significa laica sarà margherita non è il camomilla io pensavo che è camomilla ma comunque è la marca questa è dubbio che è la camomilla buona non è che tutti i fiori non bisogna fare tutta l'erba un fascio laica magari che misca e candesa prima venda ha buttato da ha buttato qua urla in maniera tante volte per cose futili non è la prima persona così urla per cose importanti per cose futili urla per cose importanti per cose futili non è la prima persona che mi capita che ho incontrato rientrino aí senti l'arte ssh artık ad ora ssh stiamo kaos senti Türkiye i ruffrati che ora è un bufalo è la mamma di cali ciao la mamma di cali allora supponiamo che prendiamo per vero che quella è la mamma di cali ti sto dicendo stai zitta un po non impazzire allora aspettiamo supponiamo che sia vero che la mamma di cali hanno fatto un cucciolo basso come cali un cucciolo invece alto alto più alto della madre l'altro e basso più largo ed è più chiaro quello di quello il fratello quello che andrea il fratello di cali insomma quello che ce l'ha fatta prende è chiaro e giallo o se la sono violentata diversi cani cioè com'è possibile ci sono quattro allora io so che è possibile sì ma è color miele e ho capito ma di che colore era sto padre c'è la madre l'abbiamo vista e quelli allora può capitare che i cani fanno un cane alto un cane basso diversi oppure che questa non è che non si è sviluppata bene perché non ha preso tutto ma che colore era il padre diciamo il il maschio che colore che colore era se ci sono tre colori diversi cioè com'è possibile questa cosa per colore diversi tre misure diverse dipende siccome tante tante volte ti danno i cani al comune fanno queste cose fanno finta che il cane è di uno e te li distribuiscono dice sia il cane mio al cammino vita di se no non li distribuiscono sono nessuno si prende il cane se tu non gli dai ho capito però il per quello uno non c'è solo mio capito che è precisa sono io mi sto chiedendo il padre che il padre il padre che si va nel nell'altro nella sorella non si può e non si vede il basso nella sorella nella sorella ascolti nella sorella non c'è è alta più alta di tofi e non ha le gambe storte la sorella di cali è più alta di tofi c'è un cane qua che viene già te l'ha detto è più alta di non la conosco io te l'ha detto lui che viene la sorella che viene la sorella che è più alta di tofi e più alta del padre e non alle gambe ti sto dicendo ma allora non mi capisci quando ti parlo ci sono tre tipologie di cane la vita se ci sente quel boss mi ricorda lo sai che cosa la spagna perché scusa non ce la possiamo mettere qua fermi una bella ciminiera no una bella ciminiera qua due piattaforme le mettiamo la delle paleoliche qua tutte a specchi di sotto e abbiamo fatto la zona tanto qua non ci viene nessuno ci mettiamo tutti dall'altra parte